Il Cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Evitiamo tutti e aiutiamoci a vicenda ad evitare abitudini e comportamenti di corte. Intrighi, chiacchiere, cordate, favoritissime, preferenze. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai nuovi cardinali, creati nel concistoro di ieri, festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. Parole semplici che tracciano un itinerario ben definito. A chi vuole seguirlo, infatti, Gesù chiede di amare chi non lo merita, senza contraccambio, per colmare i vuoti d'amore che ci sono nei cuori, nelle relazioni umane, nelle famiglie, nelle comunità, nel mondo. Ai nuovi porporati presenti, 18, vista l'assenza del Cardinale Loris Capovilla, e a tutti i cristiani, il Pontefice ha ricordato con forza che un cuore vuoto di amore è come una Chiesa sconsacrata. In mezzo alle difficoltà della vita, quindi, la via della santità è perseguibile solo accogliendo l'opera dello Spirito Santo, che sempre sostiene la speranza del popolo di Dio in cammino nella storia. Gesù non è venuto a insegnarci le buone maniere, maniere di salotto. Per questo non c'era bisogno che scendesse dal cielo e morisse sulla croce. Cristo è venuto a salvarci, a mostrarci la via, l'unica via di uscita dalle sabbie mobile del peccato, e che questa via di santità è la misericordia, quella che Lui ha fatto e ogni giorno fa con noi. Essere santi non è un lusso, è necessario per la salvezza del mondo.